La pallacanestro Trieste non c'entra nulla, non è assolutamente coinvolta. Sconvolto con la voce rotta e l'ufficio di Codroipo messo a suo quadro dai finanzieri, Gianluca Mauro ci ha risposto così. L'amministratore delegato della pallacanestro Trieste, procuratore di Alma, precisa di non essere indagato e di essere preoccupato in primis per le oltre 500 famiglie la cui occupazione dipende dal gruppo. È chiaro però che i tifosi triestini sono in fibrillazione per le sorti future della squadra. Una società, peraltro, che sta vivendo un piccolo grande sogno, promossi in a uno proprio grazie agli investimenti di Alma, ed ora in lotta per i play-off scudetto. La paura è che tutto possa svanire. Ma teniamo i piedi per terra. Anzitutto la squadra con 24 punti è salva. Di conseguenza il titolo sportivo della massima serie non è in dubbio. Detto però che l'inchiesta porterà presumibilmente al blocco dei conti correnti delle società della holding, resta decisivo capire quanti denari ci siano nelle casse societarie. Ovvero, ci sono i soldi in cassa per chiudere la stagione e pagare gli stipendi o dipendevano da specifici bonifici fatti di volta in volta dal gruppo Alma? Alla specifica domanda la Di Mauro ci ha risposto che non è chiaro quanti soldi vi siano in cassa. Aggiungendo, domani faremo il punto della situazione con le altre componenti societarie. Insomma, già previsto un incontro per capire il futuro a breve termine. Per quanto riguarda quello a lungo periodo, è evidente che ora è impossibile parlarne. Di certo, il ruolo degli altri sponsor e delle componenti societarie triestine diventa fondamentale per gestire o superare l'eventuale tempesta. Anche se, va precisato, l'Alma detiene il 92% delle quote societarie, quindi proprietaria oltre che sponsor. Qualsiasi considerazione per il futuro al momento è sospesa, ha aggiunto Mauro, che aveva ceduto la presidenza a Scavone proprio dopo la promozione. Ma ho dato comunque, ha detto Mauro, mandato i miei legali di tutelare la palla carenso Trieste che, ribadisce, non è coinvolta. Preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, il quale si è augurato che questa vicenda non abbia ripercussioni sulla squadra di basket che sta portando avanti un campionato eccellente. L'ex presidente della società, Giovanni Marzini, invece, pur non commentando la vicenda giudiziaria, ha precisato, mi auguro che non ci siano ripercussioni sul campionato e sulla squadra, sono convinto che un tecnico come Dal Masson saprà tenere il gruppo in un clima di serenità e tranquillità.